Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo qui, prima di iniziare a parlare dell'ultima notizia vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un bel like e condividere il video che è gratis. Detto ciò, bando alle ciance, ciancio alle bande, ci siamo ragazzi, il nostro allenatore, ossia Fabio Caserta, quest'oggi è stato ufficialmente esonerato dal Benevento Calcio. Che cosa dire di questo esonero? Penso che era arrivato anche il momento, premetto dicendo che ragazzi, offendere le persone dal punto di vista privato non serve a nulla, è una stupidaggine, è veramente da persone poco intelligenti, perché comunque stiamo parlando di un professionista e io non nascondo che da noi di Benevento Sport 24 è stato sempre criticato, non è mai piaciuto, a livello sempre e solo calcistico. Quindi noi valutiamo ciò che vediamo nel campo, ciò che il mister ci propone quando andiamo a vedere le partite e questo è quello che ci compete. Detto ciò, in questi anni abbiamo visto tutto quello che è successo, ci aspettavamo molto di più, non è che Caserta delude, delude perché ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto dopo la promozione col Perugia, dove ha mostrato un buon calcio. Poi non so cosa sia successo, è arrivato in quel di Benevento e forse se l'è dimenticato. L'anno scorso andiamo ai playoff, sì, raggiungiamo l'obiettivo stagionale, però con la squadra che avevamo potevamo pretendere molto di più, dato dal fatto che parlano i risultati e soprattutto le partite perse. Perdiamo partite contro le squadre che in quel momento storico erano sotto di noi e anche di tanto, che non vivevano un momento sereno e non siamo stati bravi a sfruttare la situazione, anzi li abbiamo aiutati alcune squadre a salvarsi anche. Quindi alla fine abbiamo fatto i playoff, poi usciamo contro il Pisa, un po' aspettato da tutti, però c'era rabbia perché comunque già da quei tempi non si vedeva una squadra più che sudava la maglia, perché il concetto deve essere sempre quello, i risultati possono anche non arrivare perché il pallone è tondo, però nel momento in cui vedi un gruppo coeso, una squadra unita che lotta per la maglia e la suda realmente, alla fine della partita non puoi fare che applaudire, perché comunque hai visto che ci hanno provato in tutti i modi, il risultato non è venuto perché forse l'avversario è stato più bravo di noi. In qualche partita c'è anche Sabio, però abbiamo iniziato quest'anno con una riconferma un po' inaspettata da parte di tutti. Io avevo detto all'inizio stagione che pensavo che Vigorito avesse confermato Fabio Caserta per non pagare quella clausola recissoria che aveva nel contratto, quindi dargli altri soldi e prenderne ancora un altro, soprattutto all'inizio dove non sapevamo se ci iscrivevamo al campionato, tutta la situazione Vigorito e bla bla bla. Poi la società ha fatto la propria mossa e i risultati sono questi, ossia una squadra che alla fine viene formata anche in maniera buona, perché il presidente alla fine ha investito e anche tanto sul carciomercato, apprezzo giocatori ottimi che potranno dire la loro, speriamo, con il nuovo allenatore. Caserta cambia il modulo perché aveva capito che col 4-3 non si andava da nessuna parte, vengono mandati via i giocatori che servivano nel 4-3-3 e alla fine ne prendiamo altri per giocare col 3-5-2, che alla fine secondo me è il modulo che ci dovrebbe far giocare meglio, mettiamola così. abbiamo visto sul campo che comunque qualcosina si può creare, però non c'è stato secondo me il giusto modo di amalgamare il tutto, è un centrocampo che fino all'ultima partita in casa non esisteva, oggi è arrivato Schiattarella che un po' di equilibrio dà, lui fino all'ultimo si ostinava con una campora reggista che non ho capito perché, e alla fine i fatti parlano, si squadra forte, abbiamo vinto qualche partita, però poi il resto abbiamo difeso, il gioco di Caserta era palla, i tersini e crossare, 10 cross fatti, uno buono, mezzo anzi, oppure palla e difensore col portiere e tiravano avanti, l'attaccante girovagava a destra e sinistra cercando di prendere la palla. Questo è il succo di tutto, quindi ha deluso ed è giusto che ad oggi la società lo mandi via, nonostante i tifosi già da tempo lo chiedevano. Questo oggi è stato fatto e chi arriva al posto suo arriva Fabio Cannavaro. Ora giustamente già mi ha descritto, si sapevo, ma è una scommessa, potevamo prendere qualcuno con più esperienza, bene ragazzi, la società ha fatto questa scelta, staremo a vedere, ora toccherà a Cannavaro smentirci, no? Col primo campione del mondo ci è andato bene, perché con il secondo no, passiamo da un Fabio a un Fabio, la differenza è che questo Fabio attuale, ossia Fabio Cannavaro, ha una Coppa del Mondo al seguito, quindi una mentalità che può far sì che la squadra reagisca, anche perché le qualità e i giocatori buoni ci sono. Quindi tocca, secondo me, riorganizzare un po' il tutto, riorganizzare le idee e spero che con questo innesto del mister nuovo dia una mentalità giusta anche dal punto di vista calcistico, perché lui comunque è stato un giocatore. Detto ciò, ragazzi, su Cannavaro non vi posso dire nulla, perché comunque ha sempre allenato in Cina, in Italia non ci sono riscontri, quindi anche questa è una scommessa. Speriamo che sia una scommessa vincente, ed ora il campo lo dirà. Quindi questo è tutto quello che è successo in questi giorni, io vi saluto, vi mando un bacione, e la cosa importante è che con la pioggia e con il vento sempre forza. Beneviento! Grazie a tutti!